Avvocato Orsinger, quali sono i consigli che darebbe a un giovane collega che vuole approcciarsi in questo settore? Dunque, è una materia molto bella. Io gli consiglierei il cursus honorum tradizionale italiano, un buon esame di diritto industriale in Italia, una pratica legale fatta bene in Italia e poi un'esperienza comparativa all'estero, che può essere un LLM oppure un'esperienza in uno studio di buona reputazione in un paese straniero. Anche la passione, immagino. Sicuramente, però è una materia che genera passione naturalmente, non abbiamo bisogno, a differenza di altre materie, di stillare questa passione. Nasce abbastanza spontaneamente. Grazie.